buonasera a tutti sono antonio il titolare del cementi motor di nerviano ci troviamo in via milano 53 di fronte gran casa bricco ferra e pittarello adiacente all'ocean e alla torre di nerviano oggi andrò a presentarvi alcune delle moto presenti qui nel mio showroom e volevo iniziare in particolare da questa bellissima mesh 250 250 è una moto praticamente nuovissima del 29 5 2018 con 1.750 chilometri a un prezzo di 3.610 la moto viene venduta con il piastra porta bauletto il porta pacchi e il suo cavalletto centrale passiamo alla regina dei grandi viaggi una moto particolarmente a me cara bmw f800 gs adventure è una moto praticamente bellissima pari al nuovo con 5.770 chilometri trisse di borsi originali bmw scarico in carbonio e con manopole riscaldate a bs paramani computer di borde frecce direzionali a led rimanendo in casa bmw abbiamo questa bellissima f800 r unico proprietario con 17.050 chilometri la moto è disponibile con abs tris di borse givi e cavalletto posteriore a un prezzo di 6.100 euro la prossima moto che vi voglio presentare questa bellissima moto per gli amici del cross estremo è una onda crf 450r da competizione questa moto è una moto praticamente nuova monta ammortizzatori anteriori olins dal valore di 4.600 euro scarico a krapovic in titanio dal valore di 1.450 euro centralina completa jet ultimo motello con tubi siliconici gomme anteriori nuovi e gomme posteriore nuovi quindi praticamente nuova con 7 ore ad un prezzo di 10.200 euro passando ora al marchio ducati voglio presentare questa bellissima multistrada 1200 unico proprietario con 17.261 chilometri è una moto del 2014 ad un prezzo di 11.500 euro la moto viene venduta con le due borse in tinta in coordinato ed è una moto veramente perfetta e tenute in modo maniacale veramente bella rimanendo in casa ducati abbiamo questa bellissima scrambler 800 è una moto del 2015 con 29.000 chilometri a un prezzo di 6.290 euro la moto monta il manubrio più basso rispetto all'originale parafango nero invece che giallo e disponibili tutti i ricambi originali passando ora per le amanti dei lunghi viaggi questa bellissima gran turismo è una bellissima yamaka fj 3 1003 è una moto praticamente nuova pari veramente al nuovo con 1059 chilometri e una moto del 2016 ad un prezzo di 11.900 euro cupolino regolabile elettronicamente le manopole riscaldabili il tcs l'abs cruise control e le due borse laterali in tinta moto veramente pari al nuovo unica nel suo genere da gran turismo passando al mondo degli scooter ed essendo vicino a milano per l'uso quotidiano non poteva che mancare questo bellissimo onda pc x 125 con 2.152 chilometri ed è uno scooter garantito onda sin al 2021 è veramente bello pari al nuovo a un prezzo di 2.400 euro ed infine concludiamo con questo bellissimo t max del 2014 con 8.000 chilometri con un valore commerciale di 2.000 euro di accessori ad un prezzo di 8.900 euro veramente bello pari al nuovo essendo giunti al termine della trasmissione vi ricordo che questi erano solamente alcuni dei modelli presenti qui nello showroom in orviano quindi vi invito a venirmi a trovare in via milano 53 di fronte gran casa bricoferre pittarello in più se dite di aver visto la trasmissione avrete diritto a un gradito omaggio dimenticavo a tutti i telespettatori la prossima apertura in novare provincia un grazie ciao arrivederci a tutti cmt motor numero uno a tutti ieri